Qual è la tecnica segreta? Sette volte il giocatore che vuoi Ah, sette volte vierà, ok E poi ti lascio a mio alunso 3 4 5 6 7 E poi si fa, si fa, si fa Multi 1 2 3 4 5 Aspetta, c'è il rituale 6 C'è il rituale E c'è il 7 Qua c'è qualcuno Oh Non ci credo E qua c'è qualcuno, eh Io l'ho detto Funziona ragazzi La tecnica per sculare La tecnica per sculare E anche vierà Ti è? Può essere Turam, eh? Eh non è vierà Non è Turam, è Turam Beh, godo, eh Ti devo dire Godo Il migliore del pacchetto, forse Si è trovato, ragazzi Sempre detto Lilian Turam, ragazzi Terzino destro Portato a casa Allora, ragazzi Passaggio Facciamo insieme Ve la faccio vedere Così poi Potete maxare Se ce l'avete anche voi In questo modo Se vi piacciono le statistiche Che 14 Perché Deve essere veloce Deve essere molto veloce Forse in area 3 Perché lo uso Terzino e non DC 9 Di difesa Adesso Le statistiche sono queste, ragazzi Ma Booster A che cosa? Io qua gli ho messo Dwelling C'è proprio Selezionabile Vediamo Duelli Eccolo qua Ok Gli va a mettere velocità Quindi va a 101 Resistenza tocca 100 Quindi ti fa anche 120 minuti Tranquillamente E in più Gli mette contrasto e comportamento Difensivo Secondo me Tanta tanta roba Ti piace così Sì sì A me Guarda che cazzo di statistica Ma che senso ha Ok 100 di velocità E c'ha un punto in più su ogni statistica di difesa Cioè non ha senso Così Veramente non ha senso ragazzi Non ha senso C'è 104 E non è La consigliata Eh Ma che cazzo Ma che senso ha Questa è solo le abilità Ancora non gli ho aggiunto nulla Non ho provato nulla C'ha caposaldo Andiamo a provarlo Andiamo a provarlo Insieme a Vera Oltretutto Vabbè qua davanti Se mi dà 5 Io accetto 9 E invece no Andiamo così con i titolari Questa è la squadra del nostro avversario Free to play Che lascio la squadra 8 platini Inizia la prima partita Con Lilian Turam No no L'ho visto L'ho visto Ma c'è Turam Che intervento Signori Ho chiuso una linea Eh sì Di passaggio Ma Oh Ma che cazzo Chi era Devrai Eh va tolto Devrai Ma ero davanti Stavo spazzando Non hanno Cioè l'hai passata sotto le gambe Ragazzi Se Ricard Eddc sviluppo Devrai Vola Ma non perché Non mi piace Ce lo uso Mi piace anche Poi è l'unico sviluppo che ho Bello alto Possente Però cazzo Non puoi prendere Sti gol Non puoi prendere Non puoi prendere Sti gol Allora lui Vorremmo giocare Cioè Sicuramente Eh che cazzo L'uomo Uomo mare Oggi Sette e mezzo In pagella Te lo dico io Oddio No vabbè Dai Sì vabbè Ho capito Ingiocabile Guarda Guarda Sì È servito a qualcosa Due volte Due volte È dappertutto È dappertutto Non ha senso Allora Spaziamo su Ragazzi Sponda di Ronaldo Di prima per Messi Attenzione Messi Levanta il portiere Messi Cosa cazzo Ha preso No 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 È stato bravo L'ha presa Infatti ho detto Cosa cazzo ha preso Lui eh Lui Bravo lui Brava la parata Però Era molto difficile Cioè da lì Anche se la prendi Molto difficile Eh Tenerla 1-1 Pareggiata Bella partita eh Ok Bella azione Nessuno C'ho provato Ma era lì eh Ok Non partire Che rischio Eh l'ho preso L'ho preso L'ho preso Giusto No è giusto Giusto Che prende il goal Goal Da Neymar di testa Con lì Quel porco Divierà Turam Crossi In mezzo Di Turam Ci è arrivato Con la testa Ronaldo Ma niente Niente Dura questa eh Questo se la sta giocando Veramente Veramente bene Che è in mezzo Con Vivian Eh non c'è Non ci credo Oddio Cosa cazzo Perché hanno fatto il giro Era chiesa No no perché Eh Ross No non glielo da Non glielo darà mai Manco il giallo gli da Manco il giallo Finisce ragazzi 2-1 Che palle Cioè bravo eh bravo Però non mi meritava La sconfitta Cioè è stata una bella partita Ci poteva stare il pareggio Però è una sconfitta Una sconfitta è brutta Cioè ha fatto il doppio dei tiri eh 13 in porta 4-3-1-2 Il più classico dei classici Però vai così Vediamo 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 Lazio 99 Questo forse italiano 205 Guarda un po' Eh sì Divisa 5 Beh comunque Roberto Carlos E quel Beckham Ti giuro che se aveva Ronaldo incornata Potevi farti il segno della croce eh Vai vai Sì ma io non Ok vabbè Certo che se glielo inizi a passare Ok Tira 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 C'è Michael in porta eh Il tuo Il tuo il tuo Quello che mi ha fatto Vabbè sto zitto È video solo per gli abbonati Potenza tiro 100 Ma È Valverde Ah no È Valverde Federico Vai Vai con Belling Vai 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 Girati e poi tira Tira Ah era bello Ci stava Oh Tira subito Ah È Michael ragazzi Guarda 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 Mamma rischioso eh Tira tira Bella azione Mamma mia che azione Bucato E parti Bello Tira tira Messi che cazzo mi guardi Porca puttana Mi guarda Finalmente si incazza un po' anche con Messi Oh Quella merda Valverde Gran recupero Tira Oddio cosa ha preso No Io ho premuto là eh Infatti ha fatto l'animazione Ma non ci è riuscito a toccarla Vabbè Non posso fare niente Cioè Schmichael Gli sta tenendo in piedi la partita Il nostro ce la sta rovinando Oddio Poco ha la presa eh Però Non è possibile ogni volta Schiaffala Che cazzo ha fatto Cosa Ma non è reale Non è reale quel coso Era Era saltato Per prenderla No ma oltretutto Perché c'era Tutta la porta libera E la tirata addosso a Schmichael Ronaldo Tira tira Vai Eh non c'era Ronaldo in me Ole Belli gol doppietta ragazzi eh Doppietta di Belli gol Belli gol doppietta Vabbè Vantaggio meritato quello sicuramente Ma non sono sicuro della doppietta di Belli gol Scontato Oddio Tira Eh aveva tirato una bella staffilata Valverde Schiaffale in mezzo Schiaffale in mezzo Che c'è tutto il tempo Eh no Oh Fallo 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 Brutto 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 Questa è finita eh Letteralmente finita Rosso? No non c'è Giallo? Ok C'ha 90 Eh tiro Eh non so quanto c'ha Ritiro a giro C'ha poco Vabbè facciamo così Beh Qui devo andare di potenza Con Viera devi andare di potenza Però finisce la partita ragazzi 2 a 1 Vittoria Meritata Sì doppietta di Belli gol Bella partita E sto Turam Comunque Quello che devo fare È una sicurezza È una sicurezza Turam Turam ragazzi È una sicurezza C'è proprio una sicurezza Probabilmente È il miglior terzino Del gioco Il miglior terzino Destro del gioco Devo poi usare anche Anche difensore centrale Ma abbastanza basso Quindi per questo Che lo uso TD Ma è È un mostro C'è Letteralmente Tutto quello che serve A un difensore Forse 82 contatto fisico Ma usavo Dixon Che aveva 73 Quindi vabbè È comunque un salto di qualità È poco da dire ragazzi È un mostro